Franco, ma allora hai proprio deciso? Sì, ho pensato a lungo Ho riflettuto con attenzione, vagliando tutte le ipotesi, così... Dove vai? Peccato Ehi, non sono mica morto, ma... Ci mancherai Ragazze? Ragazze? Ho solo dato l'abbio al porno, non al sesso! Sono convinto che avrei potuto operare egregiamente e lungamente Soprattutto in considerazione che vi conservo molto bene